eccoci e bentornati sul mio canale riprendiamo attenzione camera del tempo e contro le campioni storie o cerca trunks cerchiamo trunks ok allora riprendiamo con il world through di dragon ball xenoverse 2 ci siamo sventrati freezer e cooler entrambi alla massima potenza veramente uno scontro assurdo e adesso vediamo un po che cosa dobbiamo fare siamo sicuramente o era 7 e 80 però se mettono bene le cuffie gohan you're still alive we'll fix that soon enough kill him full power gohan no it can't be gohan 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 no 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 ok 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 oh oh it's you huh this scroll right here it holds the history where I came from in it everyone was wiped out by 17 and 18 even gohan who was the last to go no if mom hadn't built that time machine and I and everyone else in the world I can't say that I approve of building a machine that can fiddle around with history yeah oh well no sense in crying over spilled milk I always say no no not this history too we need to act fast trunks yeah you understand right I do then good luck oh oh cacchio c17 e c18 quali chiamano numero 17 e numero 18 però a differenza del cartone cioè questi sono tosti questi mi ricordo che erano abbastanza tosti se non sbaglio più che altro mi sembravano il vigore alto quindi so pure abbastanza veloci oh cacchio non partimo da loro iniziamo bene oh 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 cacchio non partimo da loro oh cacchio oh mi sono messo pure i nuovi potenziamenti ragazzi al al personaggio mamma mia ho aumentato pure il vigore così siamo molto più forti guardate ho l'assalto Kaioken oh bastardo poi ci abbiamo vedete il Kaioken e colpo di rettura e la KMMA Kaioken per 4 la tempesta gigante che me la sono comprata nell'ultimo acquisto che ho fatto sul... qua nel negozio acquisti sul Tottenham City voglio provare... la tempesta gigante ma non mi è piaciuta sinceramente ci ho perso... costa pure un bel po' ma non mi è piaciuta speravo che devi fare qualcosa di meglio invece vale in cieca oh e che cacchio oh forza dai per ora lo stanno a sventrare subito ok vai mi sei scappato qua mi sono aumentato pure un po' Laura ragazzi oltre al vigore un po' Laura il vigore ce la aumentiamo un altro po' qual'è? mappa mappa nooo addirittura lui e com'è spuntato Mira così dall'infrofuso? forza bella bella voglio fare la cammina mia per 4 allora andiamo qua dai 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 bella così solo che c'ho ancora i colpi speciali un po' troppo deboli mappa non mi sembra così forte io io ti metterò il vigore deve essere ancora più veloce però guardate quanto è diventato molto più veloce rispetto agli scorsi video il personaggio mio un po' di potenziamento ma come scappa Trunks in Tremode e Chiappavo non vanno a farlo oggi ero ah si vabbè cioè il colpo mio non è andato il suo sì oh cacchio cacchio che sta la scocciamo cioè più forte di prima mi è diventato oh fammi scappà se non c'è e basta e vabbè scappi sempre però vabbè scappi sempre dai 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 prendiamo un po' il vantaggio che abbiamo perso prima riesce sempre a evitarlo queste cose eh dallo scontro ravvicinato non lo puoi ma non so olè come a me cacchio piano oppure mi ero attivato sì è così vai 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 brava amante brava amante olè conclusione eppure eppure questi ce li siamo levati dall'ibolza vediamo un po' se aumenta un po' di livello sì boni quattro punti che mi faccio dei vigore e quindi perché non posso giocarti anche contro tre voi sono molto più forte devo essere non mi lascio non mi lascio uccidere Gohan dove c'è chi ha nato mo mannaggia la miseria Trunks tu arrivi dal futuro non ti? quindi Bulma potrebbe finire la macchina di tempo sono davvero orgoglio di te Trunks grazie certo non è il momento per questo 17 e 18 sono attacchando la città sei certo e questa volta Gohan Gohan io ando con te combattere questa volta questa volta io non ti prendo che stai che stai che stai sai che non puoi fare Trunks se ti aiutare Gohan qui cambia il corso della storia io lo so ma io Trunks per favore tu devi stopper Trunks Trunks c'è qualcosa che vuoi dire mi? io se sei se sei qui all grown up allora il futuro è sicuro non è e quindi questa città ha una reale propria questo è sufficiente per me ma non non posso penso Ugh Gohan! Trunks, sembra che hai fatto un amico buono. Non puoi abbandonare un amico buono, non? È davvero buono vedere, Trunks. Gohan! Bello però, pure una trama abbastanza curata, direi. Non mi sembra affatto male. Non mi sembra male, soprattutto queste sceneggiate. Tu hai fatto bene oggi! C'era un po' più pesante di storia per lui che ho pensato. Ma... Non pensavo che solo si prenderà così. Se in realtà avrebbe avuto tutto il fatto... Beh, sarebbe un altro messo per riuscire. Sì, ma arriva che tanto c'è il chiappa a morcetriolo, regà. Ai ai ai, lo scontro con Gohan non lo andiamo a fare con C17 e C18, ragazzi. Sento tipo la musica del menu del caricamento. Che ci fa ritornare nuovamente nella stanza del tempo? Vediamo un po'. Andiamo un po' da... C'è un evento nel Capsule Corporation. A proposito del Capsule Corporation, andiamo a personalizzare il nostro personaggio. Aumentiamo il vigore. Ok, perfetto. Ok, andiamo... Allora, vai con la pattuglia temporale. Ok, andiamo nella camera del tempo. Penso che adesso ci toccherà Gohan con C17 e C18. Molto, molto, molto bene. La cosa ci fa alquanto piacere. Così ci siamo fatti tutti e tre gli androidi. Oh, c'è tu. Certo, sembra che c'è ancora un po' di problema lefto da quella ultima cambiata in storia. C'è sembra che Androide 16 non fu completamente derrotato. Non è vero che sia in quella linea di tempo. Alguien ha attivato il tempo e poi ha rivolguito il tempo. Deve essere Toa. Mi sono sicuro che 16 sarà ancora più forte da prima. Puoi trattare questo per noi? Grazie. Sei una grande aiuta. Ok, non mi sembrava così forte nello scorso video comunque C16, ragazzi. Vediamo un attimo come va, perché se no... Eccoci qua. Era 785. Era 785. Cacchio, eccolo. Trunks, l'ultimo guerriero. Cacchio. Trunks è del futuro, sbamore. Mamma mia. Il boc è diventato di una velocità spaventosa. Il personaggio mio. Infatti conviene che continuo a aumentare il vigore. Perché come attacco l'ho messo già fin troppo bene. Se ci riusciamo a sbentrarci 16 così come... Come che... Adesso c'è il Kaioken. Il Kaioken sono ancora più forti. Mamma mia santissima. Oh, che mi scappa sempre. Oh, scappa. Chiamante. Ti sei fatto buggera così. Vabbè, non ti muori. K-O per te. K-O tecnico. Vediamo un po'. Che dobbiamo continuare, eh. Sel! Uno per uno. Prendilo, prendilo, Sel. Sel è perfetto addirittura. Cacchio. Che pensavi, Sel, che sei più veloce di me. Mi è stato fortissimo. Forza, no. Sì. No, perché non l'ha preso? Cacchio, voleva qua. Sel, è perfetto. Vedete dentro? Come se non ci fossi in domani. Kaioken per tre. Andiamo. Cacchio, ma vi è reso. Tutto il Kaioken. Forza, forza, forza. Ok, io ho un andato. Andiamo a Android e C. Cioè, ma Trunks non aveva un niente a questo. Cacchio. Dai, dai. Forza, amico mio. Mamma mia. Oh. Perché siamo diventati neri, regà? Se fa caso. Ci abbiamo. Ci ha rallentato qualcosa. Ci ha rallentato il vigore, sicuramente, uno dei due. Oh, no. Prendilo così. Tutto che mi hanno rallentato nei movimenti. Stiamo ancora andando bene. Ma te cacchio stiamo a fa? Sì, vialo. Bello così. Facci una camea mia. Come? Ole. Ce l'abbiamo fatta. Uh. Mamma mia. Proprio un formissimo, stiamo. Altri quattro punti. Ragazzi. Ah, continuo. E adesso che cosa ci aspetta? Ritorniamo un'altra volta alla camera del tempo. Vediamo un attimo. Sì. È pericoloso. Sì. E... Oh, meno male, va? Eppure questa è andata. Penso che adesso C16 sarà completamente distrutto, perché, cioè, lo siamo sconfitto due o tre volte, praticamente. Ok, così ci resta C17 e C18 e poi ci dobbiamo fare, presumo, la saga di Freezer. Sì, di Freezer, scusate, di Sella. Quindi, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo, ovviamente, con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale. Grazie a tutti.